Il pranzo è servito, è finito, seconda ora di Alta e Luna, state insieme a me fino alle 15 Il miglior digestivo della radiofonia italiana, ma cosa dico italiana? Mondiale, eccoci bene Avete mangiato, avete digerito, quindi stiamo insieme ancora un'ora, arrivano un sacco, un sacco Guarda, miliardi, miliardi di mail che mi accingo a leggere, saluto Michael che mi dice La passione per il rock e il metal me l'ha passata mio fratello quando mi fece ascoltare Transylvania degli Iron Maiden all'età di 7 anni Ciao Alteria, per dovere di cronaca il Trinità è a Badia Polesine e non a Rovigo, ci vediamo venerdì, saluti da Michael Sì perché venerdì sarò appunto a Badia Polesine a questo punto, in provincia di Rovigo, al Trinità suonare con la mia band E quindi saluto anche Lawrence che dice ci vediamo, grande alte, vi aspettiamo con ansia venerdì sera Potresti passare Decadence e Disturbed? Guarda, ti giuro, prometto che dopo lo passeremo sicuramente E quindi le coordinate sono sempre le stesse, stiamo insieme fino alle 15 Scrivetemi a diretta a chiocciola rockandrollradio.it, si parla un po' di tutto ciò che vi pare E io ho una grande curiosità, dai non posso non farvi questa domanda, cioè lo so che poi vi incassate con me Però devo Chi di voi ha guardato grande fratello ieri sera? Dai 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 non ci credo che mi dite tutti, no quella merda, qualcuno ha anche giusto Grazie a tutti